Buongiorno, bentornati e bentornate al settimo episodio di G-Tech, una serie in cui andiamo ad analizzare gli aspetti tecnologici di una moderna piattaforma di assicurazione. Io sono Ivano Mantegazzo, sono un solution consultant di Guidewire Italia. Nella puntata precedente, insieme a Silvio, abbiamo affrontato gli aspetti legati ai dati di una piattaforma informatica. In questa puntata andiamo invece ad affrontare un altro aspetto sempre legato ai dati, che è la previsione del futuro. Insieme con me c'è Federica Pisano, solution consultant di Guidewire UK, con cui sempre mi confronto quando si tratta di andare a fare previsioni appunto sul futuro e quindi lei ci aiuterà, diciamo, a migliorare le nostre capacità divinatorie in maniera scientifica. Quindi partiamo subito e pensiamo a come possiamo usare i dati del presente e del futuro o del passato, meglio ancora, per andare a prevedere il futuro. È possibile? Beh, direi proprio di sì. Diciamo che da un certo punto di vista prevedere il futuro non è mai stato così facile, però come dici tu, insomma, non è proprio l'oracolo di Delphi 2.0, ma piuttosto un po' di matematica, molta tecnologia e moltissimi dati. Quando parliamo di dati, dicevi giustamente, parliamo di dati storici in gran parte, le assicurazioni si basano su questo da sempre, ed è in particolare intorno agli anni Ottanta, quando c'è stata la diffusione dei computer su vasta scala, che appunto è stato possibile effettuare un'analisi avanzata dei dati e poi si sono create professioni come quella attuariale, si sono sviluppate discipline come data science, machine learning, intelligenza artificiale e quindi ovviamente lo sviluppo di modelli predittivi. Bene, allora, interessante prima di tutto questo escursus di tipo storico, quindi effettivamente possiamo utilizzare i dati per fare qualcosa e per fare delle previsioni. A questo punto la mia domanda successiva è quali tipo di previsioni sono in grado di fare utilizzando questi dati? Decisamente diversi tipi di previsioni, diciamo che forse i casi più affermati che vediamo con i nostri clienti sono relativi sia alle polizze che ai sinistri, quindi quando parliamo di polizze parliamo fondamentalmente di calcolo del premio, questioni relative a questo, sui sinistri ci sono elementi per esempio come la segmentazione, quindi smistare il sinistro alla persona più indicata al momento dell'arrivo, ma anche per esempio calcolo della gravità, calcolo di, o meglio, identificazione di potenziale frode, nonché calcolo di probabilità della soddisfazione finale del cliente. Questo per quanto riguarda i casi più frequenti. Poi ci sono utilizzi di dati più recenti come per esempio le immagini satellitari o i dati raccolti dai sensori nelle smart home per esempio per identificare una falla nelle mura prima che si verifichi l'infiltrazione o i sistemi di telematica. Comunque di fatto con il cloud computing siamo arrivati a un momento in cui abbiamo dati per costruire una casistica e capire il cliente a 360 gradi e prendere decisioni che sono ancora più fondate con valore ancora più predittivo. Allora, niente numeri dell'otto a quanto pare, io speravo potessi darmeli, però comunque mi sembra molto interessante e molto potente soprattutto. A questo punto mi viene da domandarmi, diciamo, quando e quanto velocemente posso applicare tutte queste operazioni e dove le posso applicare, quali sono tutti i campi di applicazioni possibili. Allora, per quanto riguarda quando agire, si può agire subito e per certi versi anche prima di subito, quindi parlavamo del caso in cui utilizzo i dati in tempo reale di un sensore smart home per agire prima ancora che l'infiltrazione diventi un danno ingente. E poi quando parlo di subito la questione è ricevere questi dati per cui il modello appunto viene interrogato nel momento in cui il sinistro arriva nel sistema e quindi in quanto gestore ho subito queste informazioni per prendere una decisione. Questo a livello individuale. e poi ci sono ovviamente le possibilità legate all'utilizzo dei dati in termini operativi, per cui in quanto manager posso ricevere i dati in tempo reale, per esempio, su quanto sia occupata la mia equipe e se mi rendo conto, per esempio, che un individuo in particolare ha troppi sinistri da gestire o che appunto il mio team in generale è in sovraccarico, ho dei dati che posso presentare al mio supervisore per, per esempio, chiedere di aumentare il numero delle persone nella mia equipe. Ah, molto interessante. Mi piace soprattutto questa cosa del prima di subito, che tutti vogliono sempre le cose per ieri, quindi prima di subito mi sembra positivo. E a questo punto ovviamente discutiamo un po' di quali sono, diciamo, tutti i vantaggi dell'applicazione di queste cose. In parte le hai già accennate, ma appunto... Certo, della prevenzione abbiamo già parlato. Poi c'è l'idea che in generale senza modelli predittivi la persona prende delle decisioni in base alla propria esperienza e in base alle proprie competenze. Con l'utilizzo di modelli predittivi nel sistema, invece, la persona prende delle decisioni sfruttando l'intero patrimonio di dati dell'azienda. E questo comporta diversi benefici. Uno è sicuramente la standardizzazione nella presa delle decisioni e questo significa una maggiore coerenza, significa una maggiore trasparenza su come le decisioni vengano prese e anche, appunto, la possibilità di giustificare determinate decisioni e di documentarle. Un altro elemento, se vogliamo, è la democratizzazione dei dati perché, appunto, chi magari ha meno esperienza ha la possibilità di utilizzare un modello predittivo per apprendere, per esempio, quali sono i fattori che rendono un sinistro più o meno grave. E quindi utilizzare questo per, appunto, imparare ancora più in fretta su come funzionino determinati sinistri. E tutto questo significa, appunto, una velocità maggiore nella presa delle decisioni. È possibile anche automatizzare determinate parti del sinistro, per esempio, per quelli che sono meno gravi e quindi far sì che i gestori non si occupino tanto del lavoro burocratico e più manuale e si occupano veramente di quello che richieda le loro competenze. E questo poi, a sua volta, significa maggiore efficienza, significa un lavoro più rapido e un servizio migliore per i clienti. Sembra davvero che, come dire, gli ambiti di applicazione siano infiniti e ci possa aiutare davvero in molti aspetti del lavoro, anche quotidiano. Però io lo so che, come dire, non c'è rosa senza spine e a questo punto devo chiederti anche quali sono, un po', i limiti di queste tecnologie al momento. E, come dire, dove c'è l'inghippo o se c'è un inghippo? Certo. Diciamo che, senza parlare necessariamente di inghippi, ci sono delle limitazioni. Per cui, soprattutto se parliamo di dati storici, sappiamo che i dati storici sono molto forti quando si tratta di raccontarci del passato, non sono perfetti per parlare del futuro. Almeno in determinati casi, pensiamo, per esempio, a eventi meteorologici senza precedenti come quelli che vediamo negli ultimi anni, per cui il dato storico da solo non va più bene. Un altro elemento fondamentale è che nella raccolta dei dati storici ci può essere eventualmente qualche bias. Questo significa che, per esempio, un modello predittivo può avere degli effetti negativi e potenzialmente non equi nei confronti di una determinata parte della popolazione. E questo è un fenomeno veramente importante da considerare sia se utilizziamo dati, appunto, raccolti all'interno dell'azienda, sia se parliamo di dati acquistati da parti terze. Un altro elemento che non posso non menzionare, ovviamente per tutti noi che sentiamo parlare tanto di intelligenza artificiale, sono appunto i cosiddetti fenomeni di allucinazione, per cui questi large language models ci dicono cose che sono spesso molto plausibili, ma che non sempre sono vere. E quindi un po' per sintetizzare direi che, per quanto queste tecnologie siano molto potenti e ci possano aiutare a fare delle previsioni e a lavorare più velocemente, più efficacemente, sono comunque al vaglio del pensiero critico dell'individuo. E questo è un principio che deve essere molto solido, appunto, sia per il singolo che per la strategia aziendale. Grazie Federica. È stato davvero interessante poter, come dire, buttare un occhio nel futuro e, come dire, imparare ad usare un po' la sfera di cristallo, anche se sfera di cristallo non è. Per oggi ci fermiamo qua e vi aspettiamo al prossimo episodio di G-Tech. Non mancate!